Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi sono qui per proporvi un'altra ricetta veramente buonissima e gustosissima Si tratta di un sughetto per condire la pasta oppure per accompagnare la polenta Comunque iniziamo mettendo un goccino d'olio e la pancetta La facciamo a soffriggere un pochettino e poi aggiungiamo la salsiccia spezzettandola, levandola dal budello e spezzettandola dentro Dopodiché andiamo a tritare uno spicchio d'aglio e lo aggiungiamo Poi aggiungiamo una melanzana tagliata a pezzettini piccoli Io l'ho anche sbucciata perché non amo particolarmente la melanzana e se non vedo la buccia L'occhio vuole la sua parte insomma Poi ho aggiunto anche del pezzemolo tritato E infine della polpa di pomodoro Io ho aggiunto una lattina E poi un pizzico di pepe Vi assicuro che è venuto veramente veramente gustoso Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta Se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale Non dimenticate di attivare la campanellina E noi ci vediamo presto con un nuovo video Ciao